Deaform è un ente di formazione accreditato in regione Campania, siamo nel campo della formazione lavoro da ormai dieci anni e più, lavoriamo principalmente con le aziende e con i consulenti del lavoro, il nostro principale prodotto è la formazione per l'apprendistato, ad oggi seguiamo circa 1800 imprese con un trend in crescita, formiamo apprendisti, diamo supporto ai consulenti del lavoro nell'atto dell'assunzione e procediamo noi a tutti gli adempimenti con la regione Campania inerenti all'espletamento del contratto di apprendistato. Oltre a questo che è il motivo principale per cui Deaform è conosciuta in tutta la regione Campania in cui siamo leader appunto in quello che riguarda l'apprendistato professionalizzante, lavoriamo con i fondi interprofessionali, Fond Italia che appunto è partner della manifestazione, Fond Impresa e altri fondi minori, supportando le aziende nella formazione inerente alla propria crescita e supportandola su quello che riguarda la formazione in tematiche relative alla sicurezza aziendale e la sensibilizzazione dei propri lavoratori su tematiche crescite dell'azienda stessa. Oltre a questo siamo partner di Isco, un APL della Campania tramite cui riusciamo a fare profilazioni e riusciamo a collocare giovani e disoccupati all'interno delle numerose aziende con cui collaboriamo già. Siamo partner dell'ordine dei consulenti del lavoro di Avellino e principalmente lavoriamo e cerchiamo di far crescere appunto il nostro know-how in maniera molto tecnica in quello che è la formazione lavoro.